Oggi a dire il vero è stato un po' un secondo primo giorno di scuola. Dopo circa tre mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza, con una situazione emergenziale non ancora rassicurante, con le tante polemiche in corso, la riapertura non è stata priva di apprezzioni e preoccupazioni. Lo fa sapere la dirigente scolastica del primo circolo didattico Gino Landolfi, Margherita Baldi, alla nostra redazione. Tuttavia, nonostante tutto, a prima mattina, nelle classi della scuola primaria, ho potuto constatare una presenza degli alunni quasi ordinaria, vicina circa all'80%, e nessuna particolare richiesta o rimostranza da parte dei genitori. L'assetto organizzativo è rimasto sostanzialmente quello della riapertura di settembre, in linea con i protocolli ministeriali, tranne per l'obbligo delle mascherine, entrato in vigore col DPCM del 3 dicembre e per l'introduzione di qualche altra misura, come il cambio delle calzature nella scuola dell'infanzia. Al momento, ripeto, sottolinea la dirigente Baldi, non ho registrato proteste o richieste da parte delle famiglie, probabilmente perché ho chiarito la posizione della scuola, già in occasione dei consigli di novembre e poi in sede di consiglio di circolo a dicembre. La scuola ha sì un margine di autonomia didattica ed organizzativa, ma questa prerogativa si declina nell'ambito di direttive che sono ministeriali e che hanno lo scopo proprio di garantire equità e parità di diritti su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito di questa autonomia non è possibile quindi organizzare una scuola alla carte, come vorrebbero alcuni genitori, perché non è consentito da una istituzione che eroga un servizio pubblico, né è realizzabile sulla base delle risorse materiali e professionali di cui la scuola dispone. Esistono inoltre anche limiti di carattere sindacale alla funzione docente. Inoltre, come ha chiarito anche il direttore dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Luisa Francese, i genitori che non si sentono sicuri possono ricordare all'istituto dell'istruzione parentale, che consente alle famiglie di prendersi in carico il percorso di istruzione dei propri figli con un esame di donietà entro il mese di giugno. Diversamente, la scuola deve rispettare le direttive del governo o, eventualmente, le ordinanze della regione e del comune. Aggiungerei che, continuo alla Baldi, è opportuno che il confronto e le eventuali decisioni maturino nell'ambito delle sedi delegate e legittimate dalla norma, in questo caso il Consiglio di Circolo, secondo i principi della democrazia più autentica. Questa è la situazione allo stato attuale, sottolineando che abbiamo la piena consapevolezza che l'emergenza sanitaria è in evoluzione e potrebbe essere necessario adottare diverse misure organizzative, sempre nell'alveo di quanto le norme ci consentono di attuare, conclude la dirigente scolastica Margherita Baldi.